Per scoprire la bellezza della nostra lingua, non ci resta che partire da fatti di merda che succedono in Italia. Opinionista, un termine che non esiste sulla Treccani, ma che è stato inserito in alcuni vocabolari a partire dal 1983. Pensate da quanti anni l'opinionista ci rovina la reputazione. Opinione, in latino opinio, vuol dire tante cose apparentemente diverse. Supposizione, diceria, reputazione, aspettativa. Effettivamente, l'opinionista oggi ha in sé tutte le etimologie del termine opinione, ma non è una cosa bella. L'opinionista oggi infatti diffonde delle presunte verità, delle dicerie, delle voci di corridoio, delle sue supposizioni. E lui, l'opinionista, le diffonde proprio grazie o a causa della sua reputazione, che genera aspettativa nel pubblico. Una reputazione più o meno grande, un'aspettativa più o meno grande, ma sempre nocive. Quindi, sia il pubblico, sia l'opinionista, sono responsabili di questo puttanaio che riguarda appunto la diffusione delle proprie opinioni. Tutti abbiamo un'opinione. Perché dobbiamo pagare qualcuno affinché dica la propria?